Gli occhi parlano per me La prima volta che vi ho detto Devo ringraziare Leo Vegas News per l'esperienza Ma soprattutto io non vi ho ancora detto il vero motivo per cui sono qui No, non c'entra la carbonara, ma... Ovviamente Le squadre entrano in campo, è quasi tutto pronto Stanno per iniziare pochi minuti e si partono Ma alla mezz'ora Ibagnez espulso Aumenta la tensione e... Dai il colpo di grazia Niente, golo annullato Questo derby va alla Lazio che festeggia E la Roma invece che saluta e ringrazia la sua curva Porterò questa giornata sempre con me Grazie Lazio e grazie Roma Dai, a presto